Siamo dentro in set Oh porca puttana Sono un coglione sono veramente un coglione C'è un altro qua che vuole atterrare su questa casa allora gliela lasciamo Farei quasi finta di niente ragazzi farei quasi Farei quasi finta di niente a questo punto scenderei bene che ci prendiamo la pistola Aspetta che arriva aspetta che arriva Fallo scendere Dov'è dov'è e sopra e sopra non è sotto Dov'è Porca vacca Mi sparano dall'altra casa mi sparo dall'altra casa brutta storia Hanno ragione a spararmi dall'altra casa ne hanno assolutamente ragione ne hanno assolutamente ragione Vediamo se c'è qualcuno Abbiamo detto che giochiamo rush abbiamo detto che giochiamo rush e quindi Ci dobbiamo ad andare a prendere Ci dobbiamo ad andare a prendere forza così Forza così Attenzione 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 Attenzio C'è qualcuno ragazzi c'è qualcuno qua dietro Hanno piazzato hanno piazzato hanno piazzato un cosa un disturbatore hanno piazzato non è un disturbatore è un È un coso Piano 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 Deve essere qua e deve essere qua deve essere Oh mio dio e questi Speriamo non arrivi nessuno speriamo non arrivi nessuno siamo abbastanza nascosti Ok bene così bene così ragazzi bene così vediamo dove sono tutti Vediamo dove sono andato non è stata luttata la cantina non è stata luttata la cantina Dentro così vediamo se c'è il chest vediamo se c'è il chest ci prendiamo le bende non c'è il chest però Niente chest per noi niente chest per noi allora proseguiamo comunque qua non c'è la scatola di munizioni si c'è la scatola di munizioni aspetta Bene così bene così andiamo a prendere le munizioni dove sono andati tutti Cioè ma ragazzi ma è strana questa cosa non c'è nessuno Per esempio non abbo su e grazie Jacopo grazie grazie purtroppo ragazzi io ce la metto tutta Ce la metto tutta ragazzi non è molto facile lo so che voi siete bravissimi a giocare a sparare Io non so cosa dirvi non so cosa dirvi Cerco di mettercela tutta per riuscire a fare una buona performance ma la vedo comunque dura La vedo comunque dura intanto andiamo ad aggiornare youtube vediamo un po' come siete messi in quanti mi state guardando Siete dentro in 36 ragazzi siete in tantissimi siete in tantissimi ciao a tutti ciao ciao Grazie per essere qua a guardare la live attenzione guardalo là in fondo guardalo là in fondo andiamo a prenderlo È un rischio ma ho detto che la giocavo rush ragazzi ho detto che la giocavo rush Lo vado a prendere lo vado a prendere io so dov'è lui non sa dove sono E quindi siamo pronti Vediamo se esce Vediamo se esce andiamo a prenderci le munizioni Sparano di nuovo sparano di nuovo l'ho visto di là l'ho visto di là Vediamo se di qua non c'è nessuno Mi sembra c'è un tipo là in alto ma non capisco se è un tipo o se è un'arma C'era uno qua dai sbrigati a correre sbrigati a correre Non vedo nessuno Dov'è che mi sparano? Mi spara un cecchino mi spara un cecchino brutta sito brutta sito via 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 Ok 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 con calma con calma mi ha sparato qualcuno vediamo Se c'è gente in giro perché sicuramente c'è gente non capisco dove sono però Non capisco dove sono io mi nascondo qua dietro la cassa vediamo se mi vedono o se non mi vedono Sembra non esserci nessuno però Non prendere il coso stupido cretino Ti sembra il momento di metterti a costruire ti sembra Aspetta un attimo facciamo così e così ok Ok siamo col fucilozzo in mano stiamo attenti stiamo attenti non so Da dove mi abbia sparato se devo essere sincero So che mi potrebbero vedere perché sono proprio completamente libero ragazzi Via così e via così non abbiamo neanche materiali cioè proprio facciamo cagher Facciamo proprio cagher vai che andiamo di qua vai che andiamo Prendiamo al massimo il tunnel No Vanni oggi non gioco a GTA 5 online ci ho giocato ieri ci ho giocato ieri Lui folgorante in solio vide mio Twix XU il safe il safe ha ragione Il nostro Xeno siamo in safe siamo in safe ragazzi e vediamo come al solito Lo so che non mi vedete rasciare di brutto ma io ci provo Ah c'era un chest qua c'era un super chest vediamo se entra qualcuno No siamo comunque nella safe area possiamo dare un'occhiata un po' più tranquillamente Su come procede la situa anche di qua ma non sembra esserci attualmente nessuno Vediamo di prenderci allora giusto qualche risorsa per fare per non essere proprio scariche Eventualmente di creare velocemente poi un muro se dovessimo andare a proteggerci dagli attacchi di qualcuno Attenzione ancora attenzione ancora io non vedo nessuno ragazzi io non vedo nessuno Metti da cuore come un pazzo e scappa se no muori Dice Jacopo Berardi no dai Jacopo aspetta sono messo bene sono messo bene aspetta eh Abbiamo preso un po' di materiale abbiamo preso un po' di materiale ragazzi non Fermiamoci non fermiamoci disboschiamo tutto il disboscabile Ok ok adesso bisogna ragionare un attimino vediamo vediamo siamo con il fucilozzo in mano Siamo con il mitra ragazzi stiamo andando verso il perimetro della safe area e non è male come cosa Non è male eh anch'io devo farmare materiali hai ragione hai ragione Xeno Farmiamo un pochettino di materiali farmiamo un po' di materiali mentre siamo abbastanza nascosti Molto bene non vedo non vedo nessuno ragazzi non vedo nessuno proseguiamo di qua Proseguiamo di qua e vediamo se ci va un po' meglio la cosa Allora tiriamoli giù da qua tiriamoli giù da qua ragazzi abbiamo preso un po' di roba Ce l'abbiamo per fortuna ma meglio non andare mai in giro con il piccone E' sempre meglio avere un'arma non penso ci sia nessuno qua però in realtà ragazzi Abbiamo un minuto e dodici per farmare roba e per andare anche a luttare qua va bene va bene Si ammessi bene ah sì 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 sono a coglione ma perché va bene va bene va bene dopo ce la facciamo una partita assieme Ci mancherebbe ci mancherebbe allora di qua ragazzi non c'è nulla e io mi tirerei giù un paio di alberi Viene così via il primo albero via anche le pietre ok perfetto perfetto non c'è nessuno Prendiamo sempre il nostro super mitra e vediamo se andare a trovare qualcosa di interessante O se pure no penso che abbiano già luttato praticamente tutto qua Penso che sia già stato tutto visto mi era sembrato di vedere un movimento Ui i salti dello xhuter che non vanno a segno però c'è un fucile da salto verde Il che non mi dispiace perché lo metto al posto della pistola e metto la pistola al posto delle bende Ok ok allora fucile a pompa ce l'abbiamo ce l'abbiamo Oh porca miseria al safe oh porca miseria al safe aspetta un attimo come al solito io sono un ciula Sono un ciula c'era il safe va bene va bene fa niente fa niente Dai che proseguiamo dai che proseguiamo dovremmo essere abbastanza tranquilli c'è sempre il safe Grazie grazie ita grazie ita bambino babbone dice babbo natale E poi si manda a fanculo da solo Allora attenzione proseguiamo proseguiamo Perfetto ragazzi siamo tornati safe Spari Brutta storia Guardalo la davanti la davanti c'è qualcuno ragazzi la davanti c'è qualcuno Io tento di andare a filo del perimetro della safe area abbiamo due minuti ragazzi per Rasentare il perimetro eventualmente trovare qualcun altro non abbiamo poi così tanti materiali però possiamo Proseguire piano piano Non capisco a chi siano diretti questi spari ragazzi Non capisco se siano per me oppure no non credo in realtà che siano per me questi spari Noi ci proviamo sempre siamo dentro in 23 non so se avete notato siamo dentro in 23 avanti ancora avanti ancora di qua e Non vedo ancora nessuno non vedo ancora nessuno qua però siamo proprio in campo aperto meglio nascondersi Un po meglio prima di essere visti stiamo vicino al perimetro di gioco in modo da avere la sinistra coperta Bendati ah si hai ragione hai ragione andiamo a bendarci andiamo a bendarci ragazzi dai 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 1 minuto 19 prima del restringimento dell'area Andiamo a prendere un po di bende e arriviamo a 75 perfetto di nuovo facciamo un cambio facciamo un cambio Prendiamo il fucile a pompa come prima arma il fucile d'assalto e poi il mitragliatore Mi stavo dimenticando il safe mi stavo dimenticando il safe hai ragione hai ragione hai ragione Allora 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 vediamo un pochettino ita te lo devi scaricare fortnite Oh e questo scaracca viola Attenzione attenzione ragazzi scaracca viola la mia arma lo scaracca è la mia arma preferita ragazzi mi piace tantissimo Troviamo uno scar viola qua che non era stato visto da nessuno mamma mia mamma mia Qua penso sia già stato lottato tutto 35 secondi al cambio della safe area quindi proseguiamo ancora si hanno proprio già guardato Quindi andiamo ad aprire un barco in questa in questa parete e proseguiamo di nuovo Siamo sempre come al solito A rischio meglio andare in giro con il fucile ozzo non serve Ricaricarlo proseguiamo di qua proseguiamo di qua e andiamo Sempre il più vicino possibile al perimetro cercando di entrare 8 secondi bisogna entrare bisogna entrare ragazzi dobbiamo tagliare un po' E partire prima che si restringa l'area di gioco forza xuderino forza xuderino Ok è partita è partita la safe area ragazzi è partita vai a nanna ciccio su grazie ita grazie ita grazie grazie Avanti così ragazzi avanti così non ci possiamo preoccupare siamo arrivati Alla safe area dobbiamo preparare adesso il nostro fortino Sento degli spari non credo che siano per me non credo che siano al mio indirizzo Avanti ancora avanti ancora e arriviamo senza troppi problemi In un punto molto safe molto safe vediamo di andarci proprio Perfetto qua a questo punto io direi di andare proprio nell'edificio così diamo meno nell'occhio E saremo ugualmente protetti vediamo un po' Azzardiamo a prenderci un po' di materiale forza forza Bene così via 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 dentro qua dentro qua ragazzi dentro qua molto bene Molto bene arriva un fucile da cecchino lo andiamo a cambiare con la pistola E c'è un chest c'è un chest ragazzi attenzione sento un rumore di chest eccolo là eccolo là Allora cambia il materiale Allora Perfetto perfetto Andiamo a prendere il chest Andiamo a prendere il chest Ok molto bene la mitragliata non mi interessa in realtà Non mi interessa c'è lo scudo C'è la pozione scudo molto bene ragazzi Sei messi bene però dai 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 Cerca di giocare bene che sei messo bene Cerca di giocare bene che sei messo bene Andiamo a prendere la pozione scudo Velocemente E la andiamo a prendere molto bene molto bene Non porco le combinate ciao e non mi stivuscio ciao 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 Bella lì bella lì come va come va Ok ragazzi ok ok Allora siamo ancora fuori dalla safe area E siamo dentro in 13 questa volta Quindi un po' di più rispetto a quanti eravamo prima Abbiamo anche una trappola dalla nostra E io Aia Ma perché non lo prendo Brutta situa Brutta situa Aspetta che gli vado sotto Aspetta che gli vado sotto Non so bene dove sia Ma dovrebbe essere qua ragazzi Dovrebbe essere qua Non capisco dove Se devo essere sincero Non capisco dove si possa essere nascosto Dove è andato Dove cacchio è andato Raga Porca miseria Via 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 Non ho proprio capito dove è andato Non ho proprio capito dov'è E allora tento la fuga Tento la fuga Via via così Via così Si è cagato anche lui Si è cagato anche lui Dai che andiamo Dai che andiamo No dai Arriva John Banner Arriva John Banner Dammi un secondo Dammi un secondo John Dammi un secondo Che mi stavano sparando Aspetta un attimo Aspetta un attimo Non posso essere sforacchiato Così Allora io non salgo le scale Non salgo le scale Ma proseguo di qua ragazzi E mi vado a barricare In questa casa Va bene Fa niente Fa niente Non so bene Dove fosse il tipo Che mi ha lanciato Dei cosi Però va bene lo stesso Allora siamo dentro E quindi Chiudiamo la casa Molto tranquillamente Chiudiamo tutte le porte Della casa In modo da avere L'idea Se entra qualcuno Visto che sentiremo Aprire la porta Allora andiamo a prendere Sempre il nostro Scaracca epico Che ha le munizioni Al massimo Perfetto Allora si chiude di nuovo Il safe point Vediamo un po' Ciao Cito Ciao Uso lo scaracca Usa la scaracca Dice Raramente mi iscrivo A dei canali Ma il tuo merita Grazie Novi Stivusho Sei veramente molto gentile Intanto ne approfitto Per ringraziare anche Tutti voi ragazzi Grazie per esservi Iscritti al canale Grazie per aver messo Un bel like Io ci provo ragazzi A portarvi dei contenuti Il meglio possibile Il meglio che mi viene Però Non è facile Non è facile Allora stiamo attenti Non è facile Però abbiamo la fortuna Di avere anche Enomis Che dice che lui raramente Si iscrive Ai canali Invece al mio Si è iscritto Vabbè Comunque ragazzi Voi dite quello che volete Sarò un camperone Sarò una roulotte Però intanto Che battuta squalida Siamo arrivati come al solito Tra i primi Dieci Allora No Era uno spaventapasseri Allora piano 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 Noi siamo sempre qua Molto tranquilli direi Molto tranquilli Tu sei mia zia Generaciti Deve essere un altro Allora John arriva John Come giochi Ho più un minutaggio Del tuo caricamento A prendere nel gameplay A terra mi ammazzano Dice Tom John Banner Adesso ti leggo John Banner Adesso ti leggo Scusami se non ti ho letto Scusami se non ti ho letto Allora Vediamo Si sta chiudendo l'area Molto bene Uh c'è un bel cammino C'è un bel Porca vacca Porca C'è un bel cammino E cade per terra Allora Rimaniamo nella casa Rimaniamo in questa casa Che non mi dispiace Perché è proprio messa Al limite Dell'area di gioco Ed è super super interessante Rimanerci dentro Richiudiamo comunque La porta sempre Dietro di noi Torniamo su ragazzi Ah si restringe l'area Proprio dall'altra parte Quindi meglio stare Davvero molto attenti Ragazzi adesso Però Qua siamo coperti Qua siamo coperti Quindi io posso provare A dare un'occhiata Con il fucile di precisione Ma non sto vedendo nessuno Siamo dentro in sette Siamo dentro in sette Vediamo di qua Se c'è del movimento Ma non vedo ancora nessuno Neanche di qua ragazzi Non c'è nessuno Neanche di qua Va bene E allora è ora di muoversi È ora di muoversi Magari con lo scaracca È molto meglio Facciamo sempre il perimetro Cerchiamo di entrare Nella parte Di safe area Ancora disponibile Attenzione 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 Bene bene Cugi Cucino grande Cito Grande Cito Che viene sempre Quando cucina Gli teniamo compagnia Noi Cosa mangi oggi Cosa mangi Cosa mangi Ciao Meteor music fail Hai ragione Hai ragione Allora potrebbero spararci Da un momento all'altro Ragazzi potrebbero spararci Da un momento all'altro Devo stare molto concentrato Attenzione Attenzione Teniamo sempre Il perimetro Teniamo sempre il perimetro Abbiamo 54 secondi Questo mi permette Di dare un'occhiata Mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Ci sarà sicuramente Qualcuno là in alto Ci sarà sicuramente Qualcuno là in alto Devo stare pronto a costruire Devo essere super pronto Ragazzi Super pronto Stiamo facendo Un buon giro Stiamo facendo Uh Beh io qua mi cambio Il fucile da cecchino No no Lo scaracca lo devi tenere Devi cambiare Il fucile da cecchino Con quello epico Ok Spendiamo anche il materiale Avanti ancora con lo scaracca E Ci sono dei fortini ragazzi Ci sono dei fortini Tentiamo di fare un ingresso così Lo so che è un po' un rischio Lo so che è un po' un rischio Ma è anche Una zona un po' più safe Entrare Da dove è il Lato più corto Attenzione Avanti ancora Avanti ancora Non voglio luttare niente Voglio solo sbrigarmi Ad arrivare Attenzione Potrebbe davvero Eserci qualcuno là in alto Ma sembra che non ci sia nessuno Hanno già costruito ragazzi E si chiude Si sta restringendo La safe area Noi proseguiamo Cerchiamo di salire Da qua Non ce ne preoccupiamo Più di tanto Andiamo avanti Andiamo avanti E raggiungiamo la cima Potrebbero esserci persone In qualsiasi punto ragazzi In qualsiasi punto Ma entriamo nella casa Molto bene Molto bene Siamo dentro in casa ragazzi Siamo safe Siamo safe Siamo safe Assolutamente Bravo Xuder Bravo Xuder Attenzione ragazzi Siamo in 5 Siamo in 5 E' vero Senza John Banner ragazzi Non sapremo cosa fare Vediamo se stiamo dentro O se stiamo fuori Attenzione Ci sono degli spari Ci sono degli spari Non capisco da dove arrivano Ma c'è un pompa blu ragazzi Lo andiamo a prendere Al posto di quello verde Noi tranquillissimi ragazzi Non mi muoverei affatto da qua A meno che non ci sia qualcuno Qua sopra Ma sembrerebbe di no Sembrerebbe tutto in esplorato E abbiamo Puttana Chi è che spara? C'è gente che spara qua ragazzi Non so se sono al mio indirizzo Non credo però Non credo Siamo ancora in 4 ragazzi Siamo ancora in 4 Attenzione Attenzione davvero Attenzione davvero Perché potrebbero sparare Da un momento all'altro Potrebbero prenderci A me piace in realtà Di qua Muore qualcuno lì ragazzi Muore qualcuno lì ragazzi Guardalo Grande ex iuderino Grande ex iuderino Piano 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 C'è l'arma leggendaria Oddio Allora Fucile leggendario Scaracca leggendario Lancia missili Piano 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 Fuga 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 Allora piano 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 Allora Sono successe delle cose Sono successe delle cose Allora Andiamo a mettere lo scaracca leggendario Di qua ragazzi Oh mio dio Allora lo scaracca leggendario Vediamo Munizioni Ah non abbiamo munizioni Munizioni al massimo Non siamo messi molto bene Ragazzi Non siamo messi molto bene A livello di munizioni Ne abbiamo solo 28 Prendiamo un po' di munizioni Ancora Eh qua non lo so Oh mio dio Oh mio dio Aspetta Aspetta Oh porca puttana Aspetta un attimo Aspetta un attimo Porca vaca porca Porca vaca porca Ho tre armi leggendario Oh mio dio Ho tre armi leggendario Abbiamo le munizioni Abbiamo le munizioni E tre armi leggendario 23 secondi Al restringimento dell'aria Si sta restringendo adesso Sono tutti qua Eh vado dentro a rascare ragazzi Vado dentro a rascare Assolutamente Assolutamente Siamo dentro in due Sì Sì L'Oxjuder va a vincere La prima partita Sì Grande Grande Sì